Buonasera, è il 4 luglio e tutto va bene, siamo a Roma, siamo a Sink, speriamo, perché abbiamo provato a fare altri video ed erano fuori Sink, ora speriamo che questo sia Sink, comunque è il 4 luglio, siamo a Roma, siamo qui per fare il nostro appello, dopo l'appello con la gattina, l'appello con la mia canina, ora faccio l'appello con la mamma, nonché è produttrice in gran parte del film, quindi certo, allora il film è rimasto a Roma, al Ciaccine, poi siamo a Napoli, a Frosinone, a Salerno e a Palermo, viva il Sud, viva noi siamo Francesco, andate tutti al fresco perché fa caldissimo, quindi chi ve lo fa fare di stare a casa a morire di caldo, uscite, andate nel cinema, c'è l'aria condizionata, vi mangiate un gelato, un pop corn, una bibitina, quello che vi pare, per noi è uguale, ma è importante andare al cinema, al cinema, a vedere il nostro film, perché non è che starà molto in sala, quindi cogliete l'attimo, che l'attimo è divertente, noi vi mandiamo un bacione con il cuore, ciao ciao, viva Francesco, viva Francesco.